Un progetto che prende sempre più piede, mercoledì saremo a Campomorone a fare questa cerimonia di questa targa. Per noi questa targa ha dei valori umani incredibili, perché vuole dire che i ragazzi in questa targa mettono la passione, il provare degli sport, il concetto anche di stare tra i banchi, che è la cosa fondamentale. Essere tra i banchi, riuscire a far parte di questo progetto, perché questo progetto, ripetiamo, ha dei valori. E questi valori si apprendono tra i banchi di scuola con la media delle classi, con la media di come vanno anche l'andamento tra di loro, eccetera, eccetera. E questo a noi ci permette di poter svolgere il calcio, che è la prima cosa, perché siamo con Campomorone Santorcese, e dal 2020-2021, purtroppo in quest'anno pandemico, siamo riusciti anche a portare altri sport, che sono la Palavolo, il Subuteo con la Valponte, insieme all'amico Luca Tancredi, e poi il Foodgolf, dove io sono direttore sportivo di Foodgolf Genova, ma rappresenterò nelle scuole la Lega Nazionale Foodgolf, guidata dal mio carissimo amico Diego Fuser. In questo ci saranno anche molti ospiti, e questi ospiti sono molte celebrità di Genova, che comunque ci guidano sia in regione che in comune, e ci saranno anche il presidente della Valpolcevra, ci sarà il sindaco di Campomorone, e avremo anche modo di avere tre leggende della Genova rosso-blu cerchiata, che hanno sentito parlare del mio progetto, si sono innamorati di questo progetto, vogliamo fare una sinergia insieme a loro, e sono Simone Braglia, Stefano Eragno e Pietro Bjercovod. Per me è un grande onore averli lì, perché io li ho visti, i loro grandi trionfi li ho visti proprio sugli spalti, e ora poter dire che loro ammirano il mio progetto e riuscire a fare una sinergia insieme a loro è soltanto grande orgoglio. Il nostro progetto è sempre evolverci di anno in anno, e ci ingrandiremo sempre di più, e penso che sarà il piacere di tutti i ragazzi poter provare queste grandi esperienze sportive.